Quarto giorno di blocco delle attività al porto di Gioia Tauro per lo sciopero dei lavoratori proclamato per dieci giorni da CGL, CISL, UGL e SUL dopo i 400 esuberi annunciati da MCT. Tra i portuali cresce l'attesa per l'incontro in programma mercoledì prossimo a Roma al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, incontro convocato grazie all'intervento del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, dopo che i lavoratori venerdì scorso avevano bloccato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Gioia Tauro. Una folta delegazione di dipendenti, si parla di circa 200-300, sarà a Roma per attendere l'esito della riunione convocata dal Ministro Graziano Del Rio e alla quale parteciperanno i sindacati, azienda e il prefetto di Reggio. Il rischio lamentato dalle maestranze di MCT in sciopero è che gli esuberi provichino la morte sociale a Gioia Tauro perché danno incertezza per il futuro. Nel frattempo, Klaus Davi, che sta realizzando un documentario sulla dura vertenza in atto a Gioia Tauro, ha ricevuto un messaggio dalla sottosegretaria di Stato Maria Elena Boschi che dopo aver condiviso con gli operai lo ha postato sul suo profilo Facebook. Su Gioia Tauro, scrive Laboschi, sta lavorando Claudio De Vincenti. Noi non molliamo.